Siamo partiti molto bene con il gol di Zito, stavamo facendo un'ottima prestazione, abbiamo subito il pareggio e poi il secondo gol e diciamo che abbiamo subito i gol in dei momenti dove stavamo andando bene, lo spirito era giusto, la voglia era tanta e non stavamo mollando Mi sto trovando molto bene perché la città è bella, i tifosi ci supportano in qualsiasi momento della partita, in qualsiasi momento del campionato Sicuramente non è facile, la Serie A è un ottimo campionato, un campionato difficile però grazie al Mist, grazie allo staff, grazie alla squadra e grazie anche ai tifosi mi sto trovando molto bene e devo ringraziarli assolutamente Sì, è una partita difficile assolutamente, veniamo da due partite toste, quella di Bergamo e questa contro il Milan In questo momento dobbiamo recuperare le energie, focalizzarci sulla prossima partita, dimenticare questa partita, prendere il buono e diciamo anche le cose negative per migliorarle Sicuramente in questi giorni insieme al mister e allo staff riorganizzeremo le idee e cercheremo di dare il massimo per Firenze